Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi vi mostro cosa ho ordinato dal sito scarabits.com credo sia, non so bene la sigla adesso vi mostro il bigliettino da visita e sinceramente li seguo tramite instagram e mi ero innamorata di una tipologia di perline che poi ho già usato, ma di un colore in particolare che vi mostro per ultimo e quindi ho deciso di fare l'ordine il pacco è arrivato con 8 giorni lavorativi e considerando che viene dalla Repubblica cieca diciamo che è stato abbastanza veloce allora ho ordinato pochissime cose perché sinceramente ho parecchio materiale e poco tempo quindi ho preso le cose che mi servono più urgenti e tra le prime ci sono state queste super duo bianche perché sono rimasta senza e non potevo fare il secondo orecchino conta di cui trovate il tutorial nel mio blog e quindi le ho prese qui e sono queste qui il codice è rk1004 il sito è fornitissimo quindi se vi capita date uno sguardo ecco questa è l'indicazione del sito e ho preso poi dei mezzi cristalli questi qua i mezzi cristalli li ho preso oro e argento e sono in confezioni da 100 pezzi mentre le super duo le trovate in confezioni da 5, 10 o 50 grammi io ho scelto da 5 così erano solo meno perché mi piace cambiare se avete capito poi ho preso delle drop duo ho preso queste che sono 25 pezzi anche qua ci sono da 25, da 50 e da 100 pezzi mi sembra e io le ho prese da 25 queste perché ho delle disc duo da utilizzare e non sapevo con cosa abbinarle poi ho preso questo colore sempre sull'azzurro più celeste azzurro ed sono sempre 25 pezzi e altri 25 pezzi color albicocca questo è il codice il codice è drd051 poi ho preso le iris duo sono 30 pezzi queste credo siano solo in confezioni da 30 mi sembra e sono jet di questo sono sicura del colore di altri no non sono certa poi delle vexolo le ho prese argento così cristallabrador ecco questo me lo sono ricordata e poi ho preso questo qui che sono quelle dark travertine credo sia comunque il codice è 007 vx007 e quindi lo trovate sul sito altra cosa che trovate sul sito sono le zoli duo in confezioni da 20 da 50 o 100 pezzi e io ho optato per la confezione da 20 sia verso destra che verso sinistra ne vedo una non forata a dovere ma non fa nulla spero di non perderla eccola vabbè e poi ultime non ultime quelle che ho visto su instagram che mi sono piaciuto tantissimo che erano queste qui che sono queste qui sono verso destra e verso sinistra 20 pezzi il codice è 053 e che dirvi sono di un azzurro bellissimo considera che non indosso l'azzurro quindi è tutto dire e niente sono state la causa degli acquisti bene io adesso vi rimostro il sito il bigliettino da visita dentro c'è un codice sconto sinceramente non so se è personale o meno quindi chi vi farà vedrà e questo è il sito passate date uno sguardo e se vi serve qualcosa acquistate per adesso io vi saluto ci vorrà un po' di tempo prima che vedrete nuovamente dei video acquisti e per adesso vi lascio e ci sentiamo prestissimo continuate a seguirmi sul blog perché i tutorial questa settimana saranno solamente lì a presto buona giornata a tutti ciao 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 Grazie.